Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, il Milan sta decisamente accelerando per alcuni suoi importanti obiettivi di mercato. Tanti nuovi innesti in programma e già messi in preventivo, sia per gennaio che in vista della prossima estate. In queste ore, ad esempio, il Milan ha praticamente chiuso un paio di acquisti importanti, per i quali manca solo la fumata bianca definitiva. Il primo è il giovane attaccante Popovic, in arrivo a parametro zero dal Partizan, e il secondo è il terzino sinistro Juan Miranda, che dovrebbe arrivare già a gennaio a fronte di un conguaglio economico in favore del Betis. Buoni colpi, ma il grosso riguarda ben altri nomi sui quali il Milan starebbe lavorando in questo momento. Già perché Popovic e Miranda rappresentano solo l'antipasto di quello che potrebbe fare il Milan sul fronte del calciomercato nel prossimo futuro. E stando ad alcune news che abbiamo raccolto in queste ore, sembrerebbe proprio che i rossoneri abbiano preso una decisione tanto importante quanto clamorosa, via libera ad altri due supercolpi. Non solo uno, ma ben due colpi di grosso calibro in attacco. Sappiamo che il Milan vuole rinforzare in maniera importante il proprio reparto offensivo, affiancando a Giroud un nuovo centravanti già a gennaio. Ma stando a quanto ci risulta, il piano sarebbe quello di portare a Milano due nuove punte di grande livello tra il mercato invernale e quello estivo. Per gennaio si pensa a un colpo dai costi un po' più contenuti, mentre a giugno arriverà il grande investimento. Ecco allora chi potrebbe sbarcare a Milano nelle prossime sue sessioni di calciomercato. Per quanto riguarda il colpo invernale, attenzione a Guirassi dello Stoccarda, per il quale Moncada nei giorni scorsi è volato in Germania per trattare direttamente con il bomber classe 96. Costo intorno ai 20 milioni di euro, quelli della clausola rescissoria presente nel suo contratto. L'alternativa, dai costi simili, è rappresentata da Accor Adams del Montpellier. Ma sono due anche i nomi top sulla lista del Milan per quanto riguarda il grande colpo della prossima estate. In cima alla lista c'è sempre Jonathan David de Lille, ragazzo classe 2000 che i rossoneri corteggiano ormai da diverso tempo. Con il contratto in scadenza nel 2025, il canadese rappresenta un profilo ghiotto per il quale comunque servirebbero circa 40 milioni. L'alternativa, un altro vero e proprio sogno di mercato del Milan, Benjamin Sesco dell'Ipsia. Il 20N bomber sloveno, 194 centimetri di forza e tecnica, potrebbe costare un po' più di 40 milioni, ma sarebbe un investimento straordinario per il presente e per il futuro del Milan. La cosa che sembra sempre più certa è che i rossoneri faranno due grandi colpi tra gennaio e l'estate per rinforzare il proprio attacco. Detto questo, proprio poco fa è arrivata una clamorosa novità in casa rossonera. Il centrocampista bosniaco non è più una pedina imprescindibile come in passato. L'addio appare davvero ad un passo. Lo ha annunciato Stefano Pioli in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda di calciomercato. It, le sue prestazioni sono state di buonissimo livello all'inizio, adesso sta avendo un calo. Oggi ci sono giocatori che stanno meglio di lui. Parole chiare, che fanno capire, come domani non toccherà al bosniaco, che si accomoderà nuovamente in panchina. Krunic non gioca titolare ormai da quasi un mese, dalla sfida contro il Lecce, dell'11 novembre, poi sono arrivati un paio di spezzoni, contro la Fiorentina, 6 minuti, e contro il Borussia Dortmund, un quarto di gara abbondante, ma da centrale di difesa, dopo l'infortunio di Malik Theou. Nell'ultimo match, contro il Frosinone, invece, è rimasto in panchina, a testare il attimonianza, che qualcosa negli ultimi giorni è cambiata. Le voci di un suo addio già a gennaio, d'altronde, si sono intensificate, con il trasferimento in Turchia, sempre più vicino. Milan, Krunic verso la Turchia, arriva l'offerta del Fenerbas. A gennaio, infatti, sembrano davvero esserci tutti i presupposti per un addio. Krunic, ad inizio stagione, era una pedina fondamentale alla quale Pioli non rinunciava mai. Oggi i titolari sono Reinders, Musa e Loftus Cic, con Ismael Ben Nasser pronto a riprendersi il posto dopo il lungo infortunio. Il rientro dell'Algerino, è proprio uno dei fattori che può portare il Milan a rinunciare al calciatore senza grandi problemi. L'altro è legato al contratto, in scadenza il 30 giugno 2025. Un contratto che non verrà rinnovato. La fumata bianca, tanto attesa, non è mai arrivata, con l'offerta rossonera ritenuta troppo bassa. Sul tavolo di Krunic, c'è inoltre una proposta importante, da circa 3 milioni di euro netti a stagione, da parte del Fenerbas. I turchi che ci hanno provato in estate, sono così pronti a bussare alla porta del diavolo per acquistare il centrocampista. Il Milan valuta l'ex Empoli una decina di milioni di euro, ma la sensazione è che andrà via per una cifra decisamente più bassa, anche inferiore alla metà. Milan, riecco de Ketelaere. Gli alti e i bassi con l'Atalanta e un doppio riscatto da conquistarsi. Se la sarà segnata in rosso questa data sul suo calendario, Charles de Ketelaere. 9 dicembre, quindicesima giornata, a casa dell'Atalanta, la sua nuova casa, arriva il Milan. Lui ci sarà, nonostante qualche acciacco. Dovrebbe partire dalla panchina ma non è escluso che Gasperini, vista anche l'assenza di Scamacca, non si affidi di nuovo a lui dal primo minuto. Di motivazioni, d'altronde, il 21enne belga ne dovrebbe avere a bizzeffe. CDK era stato comprato dai rossoneri per 36,5 milioni, versati al Bruges nell'estate 2022. Il colpo della squadra con lo scudetto sul petto che puntava a ripetersi e a fermarsi in Europa, un colpo però andato a vuoto. Dopo un inizio promettente il 27 agosto i primi applausi per lui a San Siro per la vittoria contro il Bologna, suggellata da un suo assist allea o la stagione di De Ketelaere al Milan ha assunto i contorni del Vorrei ma non posso. Il belga è diventato ben presto un pesce fuor d'acqua, un equivoco tattico. Dalla posizione di trequartista titolare è passato a quella di riserva di Diaz, fino a finire confinato poi sulla fascia e quindi in panchina. Il suo rendimento è diventato un problema per lo staff tecnico e poi anche per quello dirigenziale. Fumo della discordia rosso-nero, il suo acquisto non è andato giù a Cardinale che anche per lui, ma non solo ha scelto poi in estate di separarsi dal belga e da chi aveva scommesso su di lui, Maldini e Massara. Il primo e, ad oggi, unico anno al Milan del belga si è dunque chiuso con 40 presenze, 1480 minuti in campionato, nessun gol e un assist. Troppo poco.